Notizie sulle Radiomaria nel mondo Europa Radiomaria Svizzera Romanda, con sede a Losanna, chiude oggi i suoi tre giorni dedicati alla mariatona mondiale. La radio, nonostante la sua giovane età, si è impegnata molto per portare avanti i progetti di Radiomaria in territorio africano, ospitando ai microfoni molti ospiti e tanti volontari. Una fra tutte, una signora che ha fatto ben 156 chilometri per venire a partecipare di persona a questa mariatona e per pregare insieme agli ascoltatori in diretta il Santo Rosario della Divina Misericordia. Africa Radiomaria Repubblica Democratica del Congo ha organizzato un evento importantissimo. Oltre 11.000 persone, infatti, hanno raggiunto la città di Bandundu, a piedi, in moto, con barche, per portare di persona il loro contributo per i progetti della mariatona di Radiomaria in questo paese. Ricordiamo che ad oggi Radiomaria Repubblica Democratica del Congo ha la sua sede centrale nella città Kinshasa, ma ci sono anche in questo paese sei sottostazioni di Radiomaria in lingua locale. Bandundu sarà presto la settima. America La mariatona 2024 di Radiomaria Brasile è stata un vero e proprio esempio dello slogan mondiale scelto per questa mariatona La sua parola corre veloce, tratta da un salmo. Sono stati, infatti, 30 giorni intensi in cui tutto il team e i volontari di Radiomaria Brasile hanno promosso la missione di Radiomaria porta a porta, parlando personalmente con migliaia di persone nella città di Goiana, dove si trova la sede di questa Radiomaria. Inoltre, un'altra bellissima iniziativa è stata quella di fissare il numero di 1.000 Ave Maria a settimana. Sono state precitate in diretta, infatti, in vari momenti di tutte le settimane, ben 1.000 Ave Maria. Rosari mondiali Oggi, nell'ultimo giorno del mese di maggio, giorno in cui si celebra la visitazione della Vergine Maria Santa Elisabetta, pregheremo insieme il Santo Rosario mondiale dal Santuario della Vergine dei Poveri a Banneux, in Belgio. Questo momento in comunione di preghiera internazionale verrà trasmesso in diretta dunque oggi, venerdì 31 maggio, alle ore 16 italiane.